Salve ragazzi bentornati e benvenuti sul canale di 9 malati di foot e benvenuti nella tripla play e review di tre giocatori non molto costosi Calafiori, Olivera e Lobotka, tutti e tre appena usciti proprio freschi freschi Però prima di iniziare questo video vi voglio lasciare un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina E qui in descrizione troverete il link ai nostri social, voi Facebook, Instagram, gruppa, Telegram, canale e Twitch Avete intenzione di comprare una maniera calcio e non sapete da chi andare? 11calcio-hit.com Vedete anche questa presa da lì ma l'hanno mandata loro Tempi abbastanza brevi Trovate il link e i codici che occupano qui in descrizione Ci sono anche le maglie della Wi-Fi Euro 20-24 degli europei Ma anche le nuove maglie tipo del Chelsea Ci sono anche i kit completi del Manchester City, del Milan Personalizzazione, nome, numero, patch Quello che volete, tipo quello della Juve Ora è senza sponsor ma poi metteranno anche quella con lo sponsor Ma potete scegliere voi dello sponsor Ci sia i games oppure i bit get Insomma, di tutti e di più Trovate il link e codice e coupon qui in descrizione La Vodka può recuperare Paz? Non la recupera E se ne va Se ne va Fuori gioco? Grande Calafiori che lo tiene in gioco Vabbè non era solo col passo Dai Vodka lo scarico per Luca Poi lui Good, buon son Brevo Calafiori con l'attivazione della Volpe Della Volpe Della Volpe Della Volpe, guarda Del Prochons Ancora Calafiori Comunque qua Calafiori Cioè Se ne va Se ne va E' un'altra volta E' un'altra volta E' un'altra volta E' un'altra volta E' un po' debole Ah, fallo su Bodka Bravo, bravo, bravo Calafiori Facendo belli interventi Oliveira potrebbe prendere Pa Niente da fa Zombe Ha zombato Oliveira, Oliveira Ehi, non lo piglia Vediamo se No, non c'entra E vabbè C'è arrivato Poi c'è arrivato E poi sbaglia Corri Oliveira Prendi a Ferran Torres Non l'hai preso Calafiori Che stop Quasi a regalare un gol Cos'è sto buco Signori Cos'è sto buco Non ho mai sbagliato Partiamo da Calafiori Che nasce principalmente Come terzino sinistro Però si può adattare Anche A Alla sinistra avanzato Pure difensore centrale Onestamente Difensore centrale Ho potuto notare Delle piccole pecche Per quel che riguarda Magari La marcatura Un po' La fase difensiva Proprio di per sé Non è eccezionale Bravo Ma non è eccezionale Ora come ora Si può sentire Una mancanza In questo punto Ecco perché magari Se dovete provarlo Vi consiglio più di metterlo Come terzino Dove Avremo l'opportunità Di sfruttare meglio Anche il suo fisico Che è molto molto interessante E di sfruttare Anche una buona velocità Passaggio non è manco male Con una visione Passaggio corto Principalmente Poi il cross Lasciamolo perdere Pagato circa 80k Costa Sui 91 Più o meno 4 di skill E 4 di debole Workets improntato Alla fase difensiva Ed è un difensore Alto 188 cm Abbastanza visibile In campo Ha uno stile di corsa Con lo stile di intesa base Controllato E io Onestamente parlando Non li ho applicato Nessuno stile di intesa Ma li metterei tipo Un'ombra Da terzino sinistro Perché così Almeno abbiamo la possibilità Di aumentare la fase imensiva E di renderlo Più veloce Esiste una versione tosta Di lui Ma è nettamente Inferiore A questa carta E Come dettagli Abbiamo questi Come stili di gioco plus Abbiamo 4 Improntati alla difesa Questi qua Aiutano tantissimo A sopperire A certe mancanze Che magari ha proprio Nel concetto di Intercettazioni Marcatura Veloce Mantenimento Della posizione Ragazzi Indice di Per l'abilità Un anno a 3 2 2 più forse Alternative In serie A Come terzino sinistro Tipo Teo E' anche uscito Il nuovo Teo Di Marco Toz Questi principalmente Ragazzi O anche Quest'bel Olibera Ma venendo alle conclusioni Il mio voto per questa carta Ragazzi Un 6 e mezzo Veniamo a andare olibera Questo è invece il contrario Un asce di difensore centrale L'ho messo come Terzino sinistro Diciamo che Probabilmente Sarebbe ideale Metterlo Come difensore centrale Ma Mettendogli Uno stilintesa Che vada ad aumentare La sua forza fisica Perché Ahimè Ha questa pecca E' alto 184 cm Non è bassissimo Può diventare Un Di base E' un Aspettate che vedo subito Un prolungato Controllato Ma che poteva diventare Può diventare Un più Allungato Con architetto Ancora Tipo quindi Mettiamo Ancora Diventa un più prolungato Molto molto interessante Avere un difensore centrale Con questo Stile Di corsa Passaggio Nemmeno male Un po' come Calafiori Dribbling Nemmeno male Ha anche un discreto tiro Niente di eccezionale Però ci siamo Ha una buonissima aggressività Una buona resistenza Nel complesso Un buon Terzino Sinistro Non è Al pari Secondo me Di un certo Grimaldo Però se la cava bene Poi è molto versatile Il difensore centrale Terzino Sinistro Può far vari ruoli Non costa nemmeno tantissimo Sui 27 28 Mila Crediti Ha un indice di Hybridabilità Da 1 a 3 L'Uruguay qualcosa Ce l'ha Napoli Serie A Uno Di omoli Do Più Ragazzi Stili di gioco Plus Abbiamo qualcosa Nella difesa Tipo l'uncinetto Molto utile L'intercetto Ha qualcosa Nella rapidità Un bell'inesorabile Come piace a me Un passaggio tese Qualcosa Ce l'ha Come alternativa In Serie A Calafiori Teo Hernandez Oppure Anche Di Marco Ma Come terzini Come difensore centrali C'è tipo Bissex Special Tots E C'era Bremer Mi pare Si Ma avendo le conclusioni Il mio voto Per questa carta Ragazzi Sei più La vodka Invece E' interessante Su certi aspetti E' quella carta Che Non ti fa L'estrema differenza Però Piccolino Piccolino Si fa Piccolino Un po' più basso Di me Si fa vedere Lì a centrocampo Molto presente Nelle manovre Di difesa E di attacco A work It's Medio In attacco E alto In difesa Però Ammetto che Mi piace Soprattutto sulla resistenza Perché Si fa tutta la partita A pieno regime Poi anche un bel Inesauribile Con Vedete Questo Bello Piace Non è Fenomenale Magari Nel tiro Però Nel recupero Palla Sai il fatto suo No? Non l'avevo visto Con il 96 Di difesa Poi vedendolo meglio Ha proprio qualità Quasi perfetta In fase Difensiva A parte il colpo di testa Che non è niente Eccezionale Però La resistenza L'intercettazione Cioè Bravo nella fase Difensiva Bravo è anche Nel mantenere palla Nel gestire palla Nel minimo Anche smistare Nel complesso È una carta Che Mi ha un po' Stupito Mi aspettavo Non mi aspettavo Chissà che cosa Però Nel complesso Metterlo anche Mediano Con uno Molto forte Fisicamente Potrebbe creare Una zona Di centrocampo Arretrato Molto Equilibrata Con difesa Dribbling Passaggio Completa Praticamente Ragazzi Indice di Ibridabilità Da 1 a 3 Mi do giusto 2 meno Alternative Barella Rabiot Sempre in serie A Dovrebbe esserci Tipo un Mechanic L'ultimo Non meno Tutti i rating Più alti Ragazzi Ovviamente Come prezzo Nel meno altissimo Siamo di 31.000 Crediti Stile di corsa Abbiamo Un Controllato Può diventare Un controllato Esplosivo Più esplosivo Con Controllato Esplosivo Motore Finalizzatore Guardiano Oppure Più esplosivo Con Artista Ma Venendo alle Conclusioni Il mio voto Per questa carta Ragazzi Un 7 e mezzo Ma Ditemi voi Cosa hai pensato Di queste carte Di questa review Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Una condivisione Così vi spongo Vi saluto e vi ringrazio Ciao belli